NINTENDOX PLUS CATS In questo video vorrei presentarvi il mio nuovo gatto che poi vedremo come si chiama Allora, scusate il fiadone ma pochi secondi fa mi si era impallato il DS e quindi sto un attimo, credevo di averlo perso ma per fortuna si è ripreso Allora, per prima cosa accediamo Si vede il mio riflesso, va bene Eccoli qua Il mio cane Milo, non so se ve lo ricordate Eccolo qui, il pastore tedesco E il mio gatto, nuovo gatto, a pelo lungo, rosso Allora, il mio gatto si chiama 900 Allora, per quanto riguarda il nome Alcuni forse potranno anche pubblicare dei commenti un po' così Quindi vi spiego perché ho dato questo nome al mio gatto 900 Come forse qualcuno già sa è il romanzo di Baricco Che poi ci hanno fatto anche un film ma è per questo motivo che ho dato il nome al gatto 900 perché sono una grande fan In particolare dell'attore che ha interpretato 900 nel film ma questo è un altro discorso Quindi 900 per questo motivo mi piaceva È un nome un po' strano in solito ma mi piaceva Ok, devo andare a comprare l'acqua Perché non ho più Allora, shopping Allora, sì E cibo per gatti Allora, io ho la console settata in inglese Se qualcuno si fosse chiesto se il gioco fosse in inglese Ma in realtà è perché preferisco la console in inglese Quindi automaticamente Quindi il gioco è assolutamente Si può settare assolutamente in italiano Andiamo Eccolo qui Bel primo piano Non so se si vede bene ma Ok Chiamiamo un attimo 900 Mi ha sentito? Mi sente? Mi ha sentito? Oh, perfetto Non ho ancora una spazzola per gatti Quindi Mi limiterò a farvi vedere com'è Ecco un colino Ecco questo video sarà molto breve Ma era soltanto per farvi conoscere il mio nuovo gatto Vi ripeto È un sacco di tempo che non ci gioco Quindi non ho fatto progressi Né gare Non ho fatto nulla Il mio cane non sa nuove mosse Devo imparare ad alzarsi sulle zampe Milo, eccolo qui Milo Beh? Ecco Ah, per quanto riguarda il nome Milo L'ho chiamato così perché non so se qualcuno Vabbè Il nuovo album dei Coldplay Che si chiama Milo Xyloto Quindi mi piaceva il nome E quindi l'ho chiamato Milo Per questo motivo Va bene Non ci sono grandi case da farvi vedere in questo Questa puntata Quindi vi saluto Da 900 Eccolo qui Vediamo se riusciamo E vi terrà aggiornati In caso ci fossero novità Sperando di trovare più tempo per giocarci Ma In teoria adesso dovrei essere più libera Bene Vi saluto E Mi raccomando Commentate Iscrivetevi E E niente Allora alla prossima Sperando di trovare più tempo per giocarci Sperando di trovare più tempo per giocarci